Fino alla fine, non è solo un modo di dire, uno slogan, un coro da curva, fino alla fine significa che solo tre fischi dell'arbitro ti possono riportare a casa perché prima ci sono, un sogno da inseguire, una maglia da onorare, dei tifosi da rispettare, fino alla fine, allora, per non avere rimpianti, stanotte, più che mai, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Santiago Bernabeo di Madrid, buonasera, da Francesco Repice, 2000 cuori bianconeri giunti da tutta Italia per sostenere la formazione di Massimiliano Allegri in questa che sembra veramente un'impresa impossibile, una mission impossible a ribaltare lo 0-3 dell'andata, servirebbe altro che un'impresa servirebbe una partita da tramandare ai posteri così come è stata quella di ieri sera della Roma di Eusebio di Francesco a spese della Barcellona, del grande Barcellona di Messi e Valverde, attenzione, la Juventus è davanti sul settore di destra che dira il traversone, secondo palo è solo, Manzucic ha segnato la Juventus e sono passati esattamente un minuto e venti secondi dall'inizio della partita, attenzione, la Juventus è in vantaggio, grandissimo, lo spunto di Douglas Costa a destra è andato a recuperare un pallone, a strapparlo dai piedi dell'avversario e poi a dialogare sul settore di destra con De Ciglio quest'ultimo ha messo il cross sul secondo palo, è andato a colpire di testa Mario Manzucic la Juventus è in vantaggio e ruba ancora palla, attenzione, la Juve in aria di rigore, Iguain, 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 il destro murato, pallone allontanato da Marcello, eccola qui, è la Juventus la scosta è più rapida di tutti, provava ad andarsene e se aveva sul settore di destra il brasiliano entra in area, il cross in mezzo, che l'ornava a sporta vuota, due volte che l'ornava sulla conclusione era avvicinata di Gonzalo Iguain, brididi al Santiago Bernabeu, la Juventus sta mettendo a ferro e fuoco la difesa di Zinedine Zidane Juventus che sta letteralmente dominando in questi primi otto minuti attenzione Mogric, colpo di tacco di Ronaldo, Mogric è in aria per la conclusione da parte di Bale, il miracolo del numero uno dei numeri uno di Gianluigi Buffon che si oppone e poi ha provato di tacco Bale ha mandato sull'esterno della rete, pericolosissimo il Real Madrid all'altezza del decimo minuto, ecco qua, Gigi Buffon ecco qua tutti coloro i quali probabilmente pensano lui abbia finito la carriera o la debba finire stasera almeno in Champions puntualmente serviti con questo intervento strepitoso del capitano della Juve Cristiano Ronaldo, passo d'ombre, destro, Buffon è lì, ancora Buffon pallone in rete, il pareggio, ma no, attenzione, era fuori gioco Isco ha segnato quando era già in fuori gioco attenzione Douglas Costa, va via, al limite Douglas Costa, idea di rigore Manzuc, c'è il cross alla parte opposta è davanti alla linea di porta, a Keylor Navas ormai completamente fuori e battuto è arrivato Carmacalla, mentre il pallone in corner alle sue spalle stava per arrivare in guai, un'altra palla, gol per la Juve mamma mia che partita quante palle gol, quante palle gol Francesco pallone in mezzo ancora, attenzione che Manzuc ci si è trovato il pallone del 2 a 0, pallone che gli è rimbalzato ed è finito poi docile tra le braccia di Keylor Navas, ancora un'opportunità per la formazione bianconera il movimento Douglas Costa che prova ad avanza a puntare si accentra il brasiliano come al solito, gli corrono dietro ma non lo prendono a sinistra è solo Mattuidi Ricci, ma è palla sbagliato però il tocco di Douglas Costa, si dispera, si dispera Massimiliano Allegri, che opportunità per la Juve, ecco quando Allegri parla di giocare bene tecnicamente che cosa significa? Cristiano Ronaldo punta ancora Lichtenner sovrapposizione per Isco, posizione regolare Buffon, il numero uno dei numeri uno è ancora lui, è ancora Gianluigi Buffon che si oppone alla conclusione ravvicinata di Isco la corsa di Lichtenner a destra, dopo il tocco di Chedira Lichtenner sfida a Marcello Valgrossa testa, è rete, il raddoppio della Juventus Mario Mandzukic, 37esimo, è arrivato il raddoppio è arrivato il gol del Croato, la Juventus è in partita fino alla fine, si gioca la qualificazione alla semifinale della Coppa dei Campioni e il Real Madrid è là che guarda, è quello che abbiamo visto ieri sera lo stiamo ripetendo in terra di Spagna tra il Real Madrid e soprattutto una Juve scatenata che ora conduce per 2 a 0 Mario Mandzukic fino a questo momento, così come è di Zeko ieri sera da 10 in pagella, il Croato sta cantando portando la croce, soprattutto due gol uno dopo un minuto e 20 secondi un altro al 37esimo la Juventus è in vantaggio per 2 a 0 la Juventus ha accorciato e molto le distanze rispetto al Real, ora è solo un passo da quello che è successo allo stadio una settimana scorsa forse qualcuno non conosce bene la Juve forse qualcuno aveva fatto male i suoi conti forse qualcuno non è a conoscenza di come questa squadra fino alla fine non molli mai un millimetro a prescindere da come vada a finire questa partita il mondo ha continuato a capire che cos'è la Juventus e cosa succede quando la Juventus scende in campo il velo di Guain per Pianici il cross Murato al limite ma tu di destro e poi la respinta all'opera di Modric ci insiste la Juve, è scatenata la Juve lì davanti il Real fa fatica ad uscire non ci riesce, recuperano palle bianconeri Ronaldo in aria ha di fronte a Semmeladia dribbling, Benatia che non ha bocca finisce a terra Ronaldo ma questo non è fallo nemmeno a danza classica è una grande Juve Francesco, è una grande Juve è una grandissima Juventus quella che stiamo ammirando stasera al Santiago Bernabeu di Madrid una squadra che non molla mai fino alla fine ancora una volta la Juventus insegna al mondo come ci si comporta anche nelle situazioni più disperate quando tutto sembra perso e invece ancora tutto da giocare fin quando ci sarà un Prato Verde un pallone e 22 ammili a giocarlo con i piedi il cross di cross attenzione colpo di testa attraversa di Bale pericoloso il Real Madrid forse è stato parando chiediamo scusa colpire la traversa sul calcio di punizione battuto all'opera di Cristiano Ronaldo la Grasgosta che sguscia via due avversari al limite sinistro pallone sul fondo ancora una volta pericolosa la Juventus attacca Carbacal prova in qualche modo Manzuc c'ha di interrompere l'azione e costringe il terzio destro del Real all'errore pallone che finisce fuori partita di Manzuc che ci dà 10 e l'ora Lucas Vazquez al limite Ronaldo c'è Buffon ancora lui dopo la conclusione al volo da circa 14 metri di CR7 centrale rasoterra ma potente centralmente piani Pjanic per il Pipita che si gira la respinta di Keylor Navas fischi di paura del Santiago Bernabeu perché c'è Douglas Vazquez in possesso di palla attraversone in mezzo per Matuidi perde palla Rilete ha segnato la Juventus ha segnato Matuidi è tutto pari è tutto pari la Juventus ha raggiunto il Real dopo la topica di Keylor Navas che era andato anticipare Matuidi poi ha perso il pallone praticamente sulla linea di porta e il 14 ex del Paris Saint Germain l'ha spinta oltre la linea fatidica del gol e ha trovato la lette del 3 a 0 ed ora è tutto pari la Juventus ha pareggiato i conti conduce per 3 a 0 al Santiago Bernabeu sta disputando una partita leggendaria gentili ascoltatori così come la Roma ieri sera contro il Barcellona stasera la Juventus al Santiago Bernabeu noi speravamo di poter raccontare questa partita comunque vada a finire gentili ascoltatori la Juventus ha dimostrato di che basta e fatta a prescindere ripetiamo da come si concluderà questa sfida è stata una Juventus immensa sublime gentili ascoltatori Pjanic pallone in aria la conclusione da parte di Chedira che si è trovato il pallone sui piedi a pochi metri all'area piccola ha provato ad allargare il piattone destro sul cross che arrivava dal sinistra cercando il secondo palo ha trevato un'altra volta la respinta di un difensore del Real Madrid demore il Real Barcolla il Real ha paura il Real si è rese conto che la Juve ne ha di più e premo piccolissima parentesi altra lezione di Massimiliano Allegri al calcio europeo c'è Marcelo a sinistra il pallone centrale Isco destro deviazione Buffon Buffon il numero uno dei numeri uno è andato a intercettare la traiettoria anche dopo la deviazione il suo compagno di squadra Gigi Buffon altra prestazione spettacolare del capitano della Juventus Isco che entra in area da sinistra il cross è entrato attenzione pericolo girata pallone sul fondo e questa volta sta vicino al gol il Real Madrid però grazie a un difensore grazie a Varane Calbacale che ha lo spazio per crossare con il traversone Ronaldo sul fondo per fortuna sul fondo era andato sul secondo palo Cristiano Ronaldo è andato a coprire bene in qualche modo Stefan Lichsteiner minuti e finali palpitanti di questa partita leggendaria gentili ascoltatori disputata dalla Juve in terra di Spagna anzi nello stadio che è l'emblema stesso di questo sport del gioco del calcio il Santiago Bernabeu di Madrid partita monumentale di tutta la Juventus francamente stasera gentili ascoltatori non sapremmo chi indicare come migliore in campo siamo al 47esimo sta per iniziare l'ultimo minuto dei tre concessi di recupero al direttore di gara il signor Michael Oliver della federazione inglese attenzione che spinge il Real da sinistra con Asensio messo in movimento da Marcello sovrapposizione di Isco di fronte a sei due uomini si muove Asensio al limite ancora per Cross il lancio per Ronaldo che si alza di testa attenzione pallone che viene calcio di rigore calcio di rigore per il Real Madrid ma non è possibile non è possibile al novantesimo al novantesimo non è possibile ma come si può dare un rigore ma non è possibile sono curioso di vederlo Francesco sono curioso di vederlo espulsione per Buffon espulso Buffon ma non è possibile ecco che cosa si è concesso questo signore questa sera si è concesso il lusso di poter passare alla storia e spellendo dal campo Gianluigi Buffon è veramente qualcosa che non capiamo e adesso anche i giocatori del Real Madrid non si azzardano ad avvicinare Buffon il quale torna al direttore di gara glielo vuole raccontare quello che è e glielo sta dicendo chiaramente quello che è ma insomma non è giusto non è assolutamente giusto ma non c'è ci sono gli applausi ma non c'è assolutamente che concede la standing ovation a Gigi Buffon osserviamolo questo momento scandiamolo nella memoria questo momento tutti in piedi per il totem per il monumento per il numero uno dei numeri uno espulso alla fine di una partita incredibile Massimilio Allegri che si avvicina Buffon che non lo degna di uno sguardo esce dal terreno di gioco probabilmente non meritava di uscire così ma questo è Gianluigi Buffon e da espulso con un cartellino rosso con un rigore a favore negli ultimi secondi il pubblico del Santiago Bernabè ha tributato la standing ovation a questo meraviglioso campione colpo di testa da parte di Cristiano Ronaldo dal secondo palo in mezzo sta per arrivare Vázquez spinto alle spalle non so da chi mentre adesso Cristiano Ronaldo va a cercare Lugna dalle parti di Chiellini e non glielo consigliamo sinceramente non glielo consigliamo sta per entrare ovviamente Voyacek Cesni non fa niente gentili ascoltatori se la Juventus dovesse uscire dalla Coppa dei Campioni una lezione di calcio durissima a Real Madrid perché la Juventus nei minuti di recupero era in vantaggio per 3 a 0 esce Iguain entra ovviamente Cesni espulso Gigi Buffon partita leggendaria non finiremo mai di ringraziare questi ragazzi con le maglie bianconere per quello che hanno fatto questa sera sul terreno di gioco più importante del mondo in una situazione impossibile sono riusciti a mettere alle corde il Real Madrid ora Sturrarus la perde col guardiarine il signor Michael Oliver è riuscito a concedere questo calcio di rigore a tempo scaduto praticamente al Real Madrid quando si andava verso i tempi supplementari quando ormai la Juventus aveva pareggiato il conto con una squadra come il Real Madrid qui al Santiago Bernabè applausi anche per Gonzalo Iguain da queste parti ha giocato sette stagioni l'abbraccio con Voyagex Czesny ora il portiere polacco deve regalarci un miracolo l'abbiamo chiamata notte dei miracoli queste quella di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma in cui la Roma ha raso al suolo il grande Barcellona di Messi adesso questa sera dei miracoli deve mantenersi tale perché lo è stata fino al 46esimo e 50 secondi 47esimo anzi 30 secondi nel secondo tempo quando tutto sembrava portare ai tempi supplementari è arrivata l'assegnazione di questo calcio di rigore molto discutibile la spinta alle spalle di Luca Vázquez c'è stata dobbiamo dire è però altrettanto vero che un arbitro deve interpretare le partite che non si può assolutamente concedere un calcio di rigore in questa maniera poi è andato addirittura ad espalare Buffon per proteste una cosa assolutamente fuori dal mondo bisogna avere rispetto per i fuoriclasse per i campionissimi bisogna avere riguardo per i giocatori che hanno segnato e hanno scandito la storia di questo sport non lo ha fatto il signor Michael Over e va bene ed ora Cristiano Ronaldo è sul punto di battuta dagli 11 metri Cesni contro di lui la Juventus è in vantaggio per 3 a 0 ovviamente se il Real Madrid dovesse segnare il miracolo non sarebbe più tale ma stasera è la sera dei miracoli così come lo era ieri sera poi a Cesni rimbalza toccando la traversa con il palmo delle mani parte Cristiano Ronaldo prende un lungo respiro la sua rincorsa e il tiro la rete di Cristiano Ronaldo che decide le sorti della partita e della qualificazione alla semifinale della Coppa dei Campioni ha messo il pallone sotto l'incrocio dei palli il numero 7 del Real Madrid un Real Madrid letteralmente dominato dalla Juventus in lungo e in largo un Real Madrid che stanotte ha visto le streghe in questa notte che non è stata miracolosa per la Juve in questa notte che ha visto un direttore di gara un signore che si chiama Michael Oliver buttare fuori dal campo per proteste Gianluigi Buffon dopo l'assegnazione di un calcio di rigore all'ultimo secondo in favore del Real Madrid quando ormai i supplementari erano cosa fatta ma bisogna ancora giocare bisogna giocare altri tre minuti e questa è la notte dei miracoli ha morito Cristiano Ronaldo perché si è tolto la maglietta e non si può fare e anche lui deve essere ammonito mentre esplode il Santiago Bernabeu e tutti quanti i giocatori della Juve vanno a dire difensori tutti in avanti adesso cerchiamo di fare qualcosa che rimarrà nella storia ma la Juventus è entrata nella storia anzi la Juventus non è mai uscita della storia perché la Juventus appartiene alla storia e anche se c'è stato qualcuno che stasera ha deciso di farlo uscire dalla Coppa dei Campioni la Juventus rimarrà nella storia di questo sport ancora da giocare tre minuti ancora da giocare il recupero Pjanic la butta in avanti trema di paura il Santiago Bernabeu la Juve spinge allontana palla il Real Madrid la lascia sfilare in fallo laterale la rimessa con le mani in favore della Juve i giocatori del Real Madrid vanno a dire all'arbitro ma quando fischi ma si è perso tantissimo tempo e bisogna ancora giocare Cesni la butta in profondità c'è Chiellini che prova a saltare la colpisce attenzione che la Juve è ancora lì il Real in qualche modo riesce a guadagnare una rimessa dal fondo e ovviamente esplode il Santiago Bernabeu il direttore di gara parla ancora con i giocatori della formazione di casa e comanda la fine della partita la fine della sfida la Juventus esce dalla Coppa dei Campioni avanza in semifinale il Real Madrid Chiellini va da Toni Kroos e gli dice non venire da me a stringermi la mano non venire a chiedermi cambi di maglia non è giusto non è giusto che la Juve sia uscita così ma la Juventus stasera ripetiamo gentili ascoltatori ha dimostrato di essere della storia di rimanere della storia ha impartito la lezione di calcio Massimiliano Allegri a Zinedine Zidane ha vinto la Juve per 3-1 non è bastato la Juve esce dalla Coppa dei Campioni ora c'è anche un capannello lì a ridosso dell'area di rigore del Real Madrid perché qualche giovincello evidentemente che non ha capito con chi ha a che fare prova in qualche modo a provocare e quel giovincello deve essere rimesso rapidamente però negli spogliatoi perché non si può andare a parlare con giocatori che adesso si scagliano contro gli ufficiali di gara Douglas Costa è scadenato ora bisogna fare attenzione bisogna e che la Juve rimanga calma esce ingiustamente da questa competizione esce ingiustamente dal Santiago Bernabeu vincente per 3-1 ma diciamo così esclusa dalla Coppa dei Campioni da una decisione arbitrale perlomeno discutibile rimarrà nella storia la Juve rimarrà nella storia questa prestazione rimarranno nella storia questi calciatori e questo allenatore per quello che hanno saputo fare ora vanno a prendersi l'applauso dei 2000 cuori bianconeri che hanno accompagnato la squadra in questa difficile trasferta da Juventus ha battuto il Real Madrid per 3-1 ma esce dalla Champions League la doppietta nel primo tempo di Manzo che c'è il gol nella ripresa di Matuili poi il calcio di rigore all'ultimo secondo trasformato da Cristiano Ronaldo l'espulsione di Gigi Buffon il tributo del Santiago Bernabeu per il pericolo scampato e la rabbia sul volto dei giocatori campioni d'Italia da Francesco Repice gettili ascoltatori una serena notte grazie